Ripartiamo da Francesco Cosa, assessore al lavoro, un altro compitino. Sta circolando voce relativamente alle ditte che operano nell'ambito del servizio di pulizia dell'AMAT che mi sarebbe un bando, uso il condizionato, un po' particolare, in cui praticamente si punterebbe al massimo ribasso e si paventano, usiamo sempre l'ipotesi, dei momenti molto ma molto duri per i lavoratori che già prendono un tozzo di pane, che già hanno poche ore di lavoro. Se si andasse a ridurre il monte ore e quindi parallelamente le indennità, gli stipendi, altro che Taranto è una polveriera. Con l'AMAT questo discorso delle ditte di pulizia che lavorano all'interno di essa va, secondo me, disciplinato, perché già un paio d'anni fa, uno o due anni fa, ci sono stati situazioni particolari. Errare umano, perseverare diabolico. Come sempre il dottor Abate è puntuale, agli uccellini che riferiscono. No, sono degli uccellini che lavorano, che hanno paura di trovarsi. E' arrivata, a parte gli scherzi, è arrivata proprio, se non sbaglio ieri, una comunicazione da parte dei Cobas che chiedevano un incontro a me, al sindaco, su questa vicenda. E' ovviamente un bando per la pulizia degli autobus, per il quale c'è la prerogativa del Presidente, quindi del CDA dell'AMAT. Quindi nelle prossime ore, perché già da domani saremo a lavoro su questa questione, cercheremo di capire con il Presidente Walter Poggi come sta portando a questa... Almeno, non dico migliorare, ma almeno garantire l'esistente, no? Cioè, altrimenti veramente poi ci troviamo la gente che è disperata, occupa il ponte, che si dà fuoco, sono cose brutte da evitare. Però i drammi vanno prevenuti, no? E' quello che faccio ogni giorno, devo dire, ripeto, è una procedura che sta facendo una partecipata del Comune, dove il Presidente poi, al di là dell'indirizzo politico, le procedure le portano avanti tecnicamente. Sicuramente come salvaguardia delle risorse umane noi siamo al primo posto, perché... No, perché poi è brutto magari che magari la gara la vince, la vince l'azienda forestiera che fa macelleria sociale. Perché poi le ditte di furia, ammesso che vincano, potrebbero anche ovviamente essere non sensibili alle problematiche di chi invece opera sul territorio. Cioè, dal tonde anche il discorso di Amat e Amu, che è vero che sono due partecipate, è vero che hanno la loro autonomia, però non dimentichiamolo mai che sono comunque una... come dire, un appendice, un'emanazione, una promanazione dell'amministrazione. Non è che il Presidente dell'AMIU o il Presidente dell'AMAT vengono nominati dallo Spirito Santo. Evidentemente, intanto vengono scelti, in quanto comunque ci sono delle direttive, ci sono delle vicinanze di indirizzo rispetto all'amministrazione. Questo è, diciamo, sacrosanto ed è anche scontato, però capite bene che se un Presidente non ha partecipato, va a fare una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ogni volta, diciamo, ci deve essere l'amministrazione comunale poi a derimere certe vicende... Però io dico anche che se il Presidente... Purtroppo li subiamo, li subiamo perché... Io quello che dico, al di là, ora non mi sto riferendo a Poggi o all'AMIU o all'AMAT o a chi che sia, all'AMIU o a chi che sia, però dico in generale, quando un Presidente prende una linea, a mio avviso, discordante dall'amministrazione, io, Sindaco, non ti confermo. Tutto qui. Qui non si parla di linea discordante perché si parla di rendere un servizio. Ora bisogna capire la platea storica di lavoratori impegnati e il Monteore è stato, diciamo, valutato nel capitolato di gara. Non andiamo a togliere già quei quattro soldi, non andiamo a depauperarli ulteriormente.